Sicuramente questo non è un tema di opposizione in maggioranza, voglio sperare, stiamo parlando di protezione dei minori e di misure efficaci per la protezione dei nostri figli. Dobbiamo creare quindi sicuramente, e questo credo che sia una misura molto efficace e utile, una banca dati nazionale per gli affidi, in modo già da poter incrociare i dati e per rilevare eventuali anomalie già dall'incrocio dei dati. Ovviamente siamo disponibili, in ragione di questo obiettivo di intensificare la protezione dei minori, che non ha colore politico e non può essere circoscritta territorialmente, è un problema che riguarda tutti, siamo disponibili anche con le opposizioni a condividere proposte di ulteriori misure in questa direzione.